Abbiamo fatto, abbiamo creato l'immaginario E devo dire che Ludmilla è una cosa molto maturata e oggi veramente sono messa in liberata di tutti gli schematismi ha subito uno stile molto riconoscibile e molto Ludmilla Grazie a tutti Ludmilla è una cosa molto maturata e di questo ci riconoscibile a dare l'altro Magno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti